Nell'ultima seduta di consiglio, il civico consesso mascalese ha approvato all'unanimità la mozione a favore della piattaforma programmatica insegnati siciliani e la proposta avanzata nel 2016 dal gruppo consigliare Mascalice sul regolamento del baratto amministrativo, uno strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia che consente ai cittadini di pagare le tasse e i debiti con il fisco con lavori socialmente utili per il comune. I consiglieri di opposizione hanno proposto l'attivazione di una commissione speciale in relazione alla raccolta dei rifiuti solidi urbani per conoscere le percentuali rilevate nel corso di questo primo anno di raccolta differenziata, una proposta che ha trovato il parere favorevole anche dell'assessore all'ecologia Alberto Cardillo. Gli undici consiglieri di opposizione hanno poi proposto una mozione di censura nei confronti del dipendente comunale, il geometra Salvatore Torrisi, quale collaboratore RUP nel progetto di realizzazione di via Merigo Vespucci, il cui comportamento a dire dei consiglieri di opposizione in alcune sue dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa risulta essere lesivo del diritto alla libera esternazione di valutazione di ordine politico, prerogativa secondo i consiglieri firmatari della mozione dei consiglieri stessi. La discussione in consiglio si è poi spostata sulla proposta avanzata dalla terza commissione lavori pubblici di posizionare dei New Jersey all'ingresso di via Roma a confine con la statale 114 in direzione Fiume Freddo, dopo che gli uffici hanno rilevato l'impossibilità di realizzare dei dossi dissuasori di velocità, fermo restando l'obbligo di realizzare le strisce pedonali in direzione delle conchiglie dei disabili e di dipingere gli attraversamenti pedonali dove mancanti o dove precedentemente realizzati o sbiaditi.